Ciao a tutti ragazzi sono il Mirko della Degrado Family e oggi finalmente c'è il sugo fest 55.550.555 download allora ci ho messo un po' a registrare questo video perchè dovevo aspettare la parte 3 infatti dopo attenti calcoli e riflessioni rispetto al mio Charter Box ho constatato che è la parte migliore dove pullare perchè nella parte 3 le legend limited pull che sono questi qua che vedete ora a schermi e non ho nessuno nessuno di questi mentre nella parte 2 in un multi di quelli gratuiti che ci avevano dato ho trovato zoro legend che ha avuto un culo atomico e quindi ho detto vabbè allora evitiamo perchè ne ha volevo fare la parte 2 perchè c'era luffy low che qua non c'è purtroppo ma tanto ho pensato tanto non si trova mai la top di quella lista quindi la c'avevo sia Aokiji che Zoro ho detto vabbè no perchè sicuro trovo uno di loro quindi nonostante io abbia tante gemme ne farò solo 6 multi pull quindi le prossime le tengo per l'anniversario iniziamo ho il Charter Box pieno ma non me ne frego un cazzo ricrutiamo a manetta proprio come se non ci fosse un domani e speriamo in bene allora c'è anche il rate di 2.5 per di legend ma come abbiamo constatato dall'anniversario è fake quindi non mi aspetto niente da quello diciamo infatti ah no ok stavo per dire infatti entra un cazzo invece c'è una legenda allora beppo moria carino questo moria ce l'ho già non l'avevo mai trovato non è voluto questo rufi si poteva evitare c'è molto felicemente la brevità taglia vedi alla legend che cos'è ce l'ho già ce l'ho già barba bianca comunque non è male però sa vede dove cazzo l'ho trovato non so se vi ricordate nella treasure map di do flamingo avevo trovato i due ticket legend quelle delle legend recenti e praticamente avevo solo lui e un paio d'altri e ho trovato lui e shiki che erano che ce li avevo quindi vaffanquo nerdato per niente vai continuiamo a recrutare prossima è la nuova perona che non è malissimo secondo me è molto utile nei team un po' zombie quelli un po' tank e quelle porcherie lì nessuna legend ok ancora nessuno da nuova baccia e nessun personaggio nuovo in realtà se proprio dobbiamo essere proprio sinceri al cento per cento chopper questo sugo peste è proprio peste robini sai noria che merda questo qua è uno nuovo che ti cura dal veleno fa quelle cose lì diciamo è un supporter diciamo è la nuova perona che appunto recuppe ti ridà il 50 per cento della vita e per tre turni riduce il 70 per cento è tipo Bartolomeo Raiz io lo definisco una cosa simile un po' cioè un po' meno forte ma non neanche tanto allora terza c'è la legend e c'è anche alla quarta la legend garantita quindi vediamo intanto il 2.5 per di legend non worka per niente ma dal mio versaggio era il 3 per ho trovato una legend basta come adesso ho fatto 30 mult no bene ecco le solite mie esagerazioni beh non ce l'avevo Bellami incredibile tipo personaggio uscito quando è uscito il gioco però vabbè non ce l'avevo Rayleigh Nami questa dovrei averla forse ce l'ho già evoluto l'ho trovato vabbè Usopp ah questa è un'altra nuova che non è un garanché in realtà ma praticamente gusta l'affinity è un rainbow affiniti cioè gusta affiniti di tutti di 1.75 ai danni dell'ottanta per cento non è male vediamo qual è la legend speriamo in bene eh porca merda cioè è proprio uno schifo impressionante vabbè un'altra legend garantita al quarto siamo già agli sgoccioli già non è che stia andando molto alla grande diciamo proviamo un po' di trucchetti magici ricordiamo il 2.5 al gioco grazie gioco perché insomma ok grazie speriamo solo che siano delle belle cose vediamo subito Garp ce l'ho ce l'ho l'ho trovato nei ticket dell'ATN quindi da Garp Gliatoni Aladdin la prossima è la legend dovrebbe essersi dai Judge ce l'ho 2 ne ho 3 in realtà perché non si sa mai quello non evoluto per il ranking bisogna sempre tenerlo un po' lì in sospeso per sicurezza vabbè niente speriamo in questa magari ma già l'hanno niente da fare un 3 di tutto no non power up perché mi sto sbagliando ok allora questo è garantito in double character che se è una legend è un personaggio che non ho se l'ultimo poster è una legend ma dubito sarà o appunto Robin crocodile pure la tanto great due intensivi come funziona per un cazzo vabbè personaggi proprio vecchi minchi quasi facciamo tanti di quei rei poi perché altro che oh uh oh oh buono regà buono no merda è nel limited pool cazzo adesso va a finire che trovo lui porca buono buono dai sperando di non trovare lui cazzo è l'unico che ho del limited pool perché l'ho trovato adesso buono dai vediamo l'undicesimo no no non è una legend a meno che non sia mascherata anche questa no era una cosa cosa avevo detto sarà sicuramente robin cropped devi farli fuori aspetta un attimo che prima dell'ultimo multi vorrei verificare un attimo se nella parte 3 limited pool eh dove è la parte 3 qua è veramente no scherzavo oh mi sono sbagliato allora si è uno nuovo no comunque sono soddisfatto perché ho trovato miok che ho trovato tutte e due cioè sia zoro che miok quindi tanta roba adesso vediamo la magia delle 23 è questa la magia delle 23 e vediamo secondo me non funziona una legend c'è due legend ci sono tre tre più quattro che è l'ultima che sarà nuova almeno che non sia tra queste tre adesso vediamo e speriamo in bene perché io è importante trovarlo finora molto importante perché è buono vediamo beh è uno dei due uno dei due però è quello giallo un po' berlino però beh vediamo che bingchia che schifo ma che cazzo è sta merda cioè cioè Rayleigh io penso sia la prima legend del gioco Katakuri V1 ce l'ho già ce ne ho due perché adesso c'è la super evoluzione quindi ce l'ho trovato mi raccomando questa è una legend nuova vediamo no c'era invece oh io cosa cazzo ma porco mio allora no 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 allora io cosa proprio avevo detto che era una nuova sicuro no e io ho detto vabbè ho trovato lui è l'unica che ho l'unica che avevo dell'inted pool e non vi sto prendendo per il culo eh e l'ho trovata prima e alla fine cioè queste sono proprio le cose che mi fanno incazzare in una maniera probica cioè cioè vabbè ragazzi il sugo feste è finito mi sono portato a casa mi ok basta gli altri ce li avevo già questi due qua che insomma sono come posso dire opinabili non c'è niente da dire forse magari farò due multiple nella parte 2 tanto dopo tornano giusto per avere il nuovo ace che come è ha questo qua anche nuovo non ho ma per il resto tutti gli altri ce li ho già quindi no dovrei averlo si si ce l'ho va bene ragazzi questo video finisce qua noi ci vediamo alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti